Siamo stati abituati, fin da scuola, a studiare un'epica fatta da uomini. I grandi eroi, i grandi viaggi, le donne hanno sempre avuto un ruolo marginale. Sono state o oggetto di contesa, Elena, o diciamo distrazione a vari livelli, Calipso, Circe, o purtroppo anche nel peggiore dei casi, semplicemente Baratto, Briseide, un'altra figura dell'Iliade. Da questo contesto si stagliano grandi eroine del mondo greco, ma sono tutte eroine molto mascoline in qualche modo. C'è Andromaca che parla dei valori della guerra, c'è Atlanta che però corre più veloce degli uomini, sempre sul campo della competizione. In tutto questo contesto ci chiediamo quale sia effettivamente l'epica femminile e quale voce il poeta Omero e tutti i suoi colleghi hanno negato alle donne. Oggi daremo voce a una grande donna dell'antichità e lo faremo attraverso un romanzo che dell'epica apprende tanto, tantissimo, la riscrive, dal titolo Penelopea, la regina di Itaca, pubblicato dal gruppo Albatrossi il filo nella collana strade. L'autrice è Tatiana Cavola ed è qui con me. La saluto. Buonasera, grazie per l'invito. Ciao Tatiana, hai voluto riscrivere l'epica dando finalmente voce a questa regina che credo tra tutte le regine antiche è quella che parla di meno. Sì, è proprio per questo che l'ho scelta, perché è quella che tradizionalmente viene quasi ignorata, pur essendo una delle protagoniste alla fine dell'Odissea, perché teoricamente lo è, però in pratica è una protagonista in absenza, non figura quasi mai e sono gli altri a parlare per lei, lei difficilmente parla per se stessa. Quindi era interessante proprio vedere cosa avrebbe detto se avesse potuto. Ecco, qual è la virtù antica di Penelope e qual è quella che tu invece gli hai voluto attribuire con la parola? Quella antica è sicuramente la fedeltà. Quella che io le ho voluto attribuire non ce n'è una sola, ce ne sono tante. Sicuramente c'è un forte desiderio di dimostrare chi si è in una società che non la favorisce sicuramente, ma un desiderio di voler mostrare chi lei realmente sia anche a discapito di questo. Sì, perché di Penelope noi abbiamo sempre un'immagine terribile, che è quella che subisce, subisce, subisce l'assalto dei proci e noi abbiamo una fantastica narrazione per cui lei comunque resiste e quindi noi l'apprezziamo per il fatto che resista, però lei resiste da vittima quasi. Sì, è sempre con lei che sta lì in attesa che tutti gli altri personaggi intorno a lei agiscano e nel frattempo lei al massimo tesse e disfa la tela. La mia Penelope odia cucire, odia tessere, non tessere, non tessirà mai. E quella tela è che cosa? È un altro legame, è una catena in qualche modo la tela di Penelope. Penelopea è dare non solo centralità e forza di protagonista a Penelope, ma soprattutto ci dà di Ulisse un'immagine meno romantica di quella che noi abbiamo. Noi abbiamo un'immagine romantica di Ulisse perché viene da una campana sola. Sì, e oltretutto abbiamo un'immagine di Ulisse sempre anche lì molto stereotipata come dell'uomo intelligente o furbo. Non ci viene mai sottolineato quanti aiutini riceva Ulisse da parte di Atena per esempio o quante persone intorno a lui in realtà lo favoriscano, Penelope compresa che comunque una volta si diceva dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna perché deve stare dietro. In questa ottica lui sì è furbo ma è furbo perché c'è anche chi lo aiuta ad essere furbo e oltre ad essere furbo avrà anche altre caratteristiche, sarà debole, sarà vigliacco quando è il momento di essere vigliacco, sarà tante altre cose. Si ricorda di casa dopo 7-8 anni che è stata Calypso alla fine. Fra l'altro. Ha l'idea di pausa di riflessione un po' larga Ulisse in questo contesto. Ma anche un'idea di fedeltà coniugale estremamente elastica. E invece l'interessante è questo che Penelope non ha nessuna che lo aiuti, anzi l'unico supporto che poteva essere Telemaco, a un certo momento anche lui parte e quindi davvero lei è la donna responsabile di se stessa, per se stessa. Ma non solo, Telemaco sarà anche colui che nonostante il fatto che lei lo abbia cresciuto, amato, gli sia stato accanto per 20 anni laddove il padre non c'era, è colui che nel momento in cui deve scegliere da quale parte schierarsi si schiera con il padre e condanna comunque la madre per i suoi comportamenti. Quindi Penelope è anche la donna che qualsiasi cosa faccia è sbagliata. Se attende è perché ha atteso troppo, se non attende perché nell'odissea ci fanno anche intendere che a un certo punto lei non aspettava più Ulisse, se non attende è perché non ha atteso abbastanza. Quindi qualsiasi cosa avesse fatto sarebbe comunque stata sbagliata. È un gran peccato perché cosa poteva fare poverina in un periodo in cui oltretutto lei era da sola veramente, una straniera in una terra che non è la sua, lasciata dal marito dopo pochissimo tempo dopo il matrimonio con un bambino piccolo, con dei suoceri che non devono essere stati neanche particolarmente simpatici. Cosa poteva fare? L'epica è un mestiere da uomini, almeno così ce l'hanno sempre raccontata, ce l'hanno sempre fatta credere. Semplicemente l'epica è stata la prevaricazione degli uomini rispetto al silenzio di donne che oggi abbiamo anche la voglia di rompere. Penelopea, la regina di Itaca, pubblicata dal gruppo Albatros il Filo nella collana strade. L'autrice Tatiana Cavola è stata qui con noi, battagliera ci ha raccontato la prima parte di Penelope ma ne arriverà una seconda. Sì, è già in lavorazione. Grazie mille per l'invito.